Le idee sole non danno vita e chi va per questa strada di sole, le idee finisce in un labirinto e non esce più. E per questo dall'inizio della Chiesa ci sono le eresie, le eresie sono questo, cercare di capire con le nostre menti e con la nostra luce soltanto chi è Gesù. Un grande scrittore anglese diceva che l'eresia è una idea diventata pazza. E così è, quando le idee sono sole diventano pazze. Quello non è il cammino. Per conoscere Gesù possiamo aprire tre porte. Studiare davvero, no? Prima porta, pregare Gesù. Sappiate che lo studio senza preghiera non serve. Pregare Gesù per meglio conoscerlo. I grandi teologi, i grandi teologi fanno teologia in ginocchio. Pregare Gesù. E con lo studio, con la preghiera, ci avviciniamo un po'. Ma senza preghiera mai conosceremo Gesù. Mai, mai. Seconda porta, celebrare Gesù. Non basta la preghiera. È necessaria la gioia della celebrazione. Celebrare Gesù nei Suoi sacramenti. Perché lì ci dà la vita, ci dà la forza, ci dà il pasto, ci dà il conforto, ci dà l'alleanza, ci dà la missione. Senza la celebrazione dei sacramenti, non arriviamo a conoscere Gesù. E questo è proprio della Chiesa, la celebrazione. E terza porta, imitare Gesù. Prendere il Vangelo, cosa ha fatto Lui, come era la sua vita, cosa ci ha detto, cosa ci ha insegnato, e cercare di imitarlo.